Sì, 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 sì. e vediamo che intanto Morelli è decisamente con la testa rispetto a Stoldà che procede con una leggera ancora Morelli è testa Morelli è soldato Sette giri per la finale del contenuto italiano 2015 tappa di Latina qui al circuito asal di Campoverde Morelli in testa segue soldato E' saluto a lo conio di queste ergo E' saluto a lo conio di queste ergo ancora in terza Morelli siamo quasi in addirittura d'arrivo abbiamo superato da pochissimo la metà gara 7 i giri per questa finale ecco! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.